L'Università di Camerino ha ospitato nel mese di settembre una tappa del Master K, Intellectual Prosperity Valoration of Knowledge Exchange, promosso da Netval, il network per la valorizzazione della ricerca universitaria, in collaborazione con alcuni atenei italiani, tra cui appunto anche Unicam. Si tratta del primo Master Multisede in Italia che mira a formare i futuri manager dell'innovazione, aumentando le competenze sulla gestione della proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico e impatto. A salutare i partecipanti è stato il prorettore vicario, professor Graziano Leoni.